Bene, salve e buonasera a tutti. Orfani di Wall Street, chiusa per il giorno dei festeggiamenti del Martin Luther King, le principali piazze finanze europee chiudono la prima sessione della settimana con il segno meno. Il DAX chiude a meno 0,61%, Ibex a meno 0,28%, CAC di Parigi a meno 0,17%, Fuzzi Londra a più 0,05% e Fuzzi Mimba a meno 0,35%. In Germania i prezzi alla produzione hanno registrato a dicembre un calo dello 0,4% rispetto al mese precedente, maggiore di quello previsto. Gli analisti si aspettavano un ribasso dello 0,1% su base annua, nei confronti di dicembre 2017 i prezzi alla produzione sono saliti dello 2,7% contro un più 2,9% del consensus. Mentre invece dal Fondo Monetario Internazionale, nel suo World Economic Outlook, si leggono alcuni passi interessanti, in particolare in un periodo prolungato di rendimenti elevati, metterebbe ultimamente sotto stress le banche italiane, peserebbe soprattutto l'attività che peserebbe in particolare sull'attività economica e peggiorerebbe le dinamiche legate al debito. Quindi il Fondo Monetario Internazionale ha limitato le stime di crescita dell'Italia per il 2019 all'1%, previsto lo scorso ottobre dallo 0,6% attuale. In Europa continua la suspense sulla Brexit e il costoso intreccio fra i rischi sovrani e i rischi finanziari in Italia, rimane una minaccia. Così il direttore della ricerca del Fondo Monetario Internazionale, Ghita Kopinat, ha presentato un rapporto a Davos. Mentre, stando alle previsioni del Fondo, il PIL globale rallenta quest'anno di due decimali al 3,5%, mentre l'area euro dello 0,3% a quota 1,6%. La recessione, ha sottolineato il direttore generale del Fondo Monetario Internazionale, Chris Lagarde, non è ancora dietro l'angolo, ma i rischi di un calo repentino della crescita globale sono aumentati. Bene, andiamo a vedere domani che cosa ci offre il calendario, martedì 22 gennaio, alle 10.30 dalla Gran Bretagna abbiamo la variazione delle richieste dei sussidi di disoccupazione, alle ore 11 l'indice ZEV su sentiment dell'economia tedesca, alle ore 16 le venite di abbiazioni esistenti in dicembre della zona degli Stati Uniti e poi alle 22.45 dalla Nuova Zelanda l'indice di prezzi al consumo del quattro trimestre ed quelli relativi annuali. Bene, andiamo a vedere subito cosa sta succedendo in particolare sull'euro dollaro, anche se oggi il dollaro è rimasto fermo appunto per i festeggiamenti, del Martin Luther King, così anche come Wall Street, e però vediamo che la situazione al momento resta ancora in una situazione ribassista in ottica giornaliera, dopo aver iniziato questo movimento da questa zona di massimo, dall'ultimo massimo relativo raggiunto, nel momento il prezzo. Già AD si è posizionato verso il basso di oltre due figure, 200 punti. Al di sotto 1.14, quindi ci troviamo sotto al pivot, vedete il pivot mensile 1.14.02, quindi al momento la view rimane ancora ribassista. Dollaro Yen, dollaro Yen continua in movimento di fondo rialzista, dopo la bullish crab, eccola qua, che è stata confermata, abbiamo il primo impulso, la correzione sul 50, 61.8 del primo impulso e poi abbiamo l'estensione. Da questa estensione in pratica, vedete, adesso in questo momento il prezzo si è appoggiato a poche ore dalla chiusura della giornata, vedete qui la prima correzione si è chiusa proprio sul 50, 61.8 e adesso stiamo in una fase di movimentazione, quindi l'estensione, la terza fase. Si è appoggiato, come stavo dicendo, sul 109.587 sul mio livello annuale, vedete un break-in, una falsa rottura del supporto e quindi al momento la view rimane rialzista all'interno del terzo movimento di questo posizionamento rialzista. Stellina dollaro, sembra che ha risentito nuovamente di questa zona di demand, ci troviamo sotto un 99.247, c'è la possibilità, questo si vede molto bene in ottica H4, c'è la possibilità di un possibile rientro, un attimo solo, una possibile movimentazione al ribasso. Se andiamo a vedere abbiamo una situazione molto interessante che si sta verificando proprio in queste ultime ore, vedete abbiamo un punto di swing primario dove se andiamo a tracciare i fibonacci, anche qua c'è la possibilità, è quasi finita la correzione, vedete, e quindi da questa zona potrebbe partire una movimentazione al ribasso. Per quanto riguarda invece le operazioni che sono state date stamattina all'interno anche delle varie indicazioni, gli scenari più importanti che sono stati dati nella prima sessione della settimana, partiamo dal US Crude. US Crude in ottica giornaliera abbiamo questo test e spalla, che in questo momento, vedete, sta già performando qualche leggera movimentazione al rialzo e il prezzo potrebbe raggiungere appunto andando a traslare tecnicamente il punto di minimo della testa con, sono circa 1140 punti, con la neckline andando a traslare questi 1140 punti, eccoli qua, praticamente, vedete, ci troviamo intorno a questa zona, quindi dove appunto c'è questa resistenza, quindi molto probabilmente il prezzo potrebbe raggiungere questo 63,79. Poi abbiamo Euro New Zealand, un'operazione di breve termine, in questo momento ci troviamo a pochi punti dal primo target, esattamente il target a 1,6880, quindi vedete come siamo a circa 30, sono i primi 30 punti, poi nel momento in cui andiamo a raggiungere il primo target, sposteremo lo stop loss a profitto della seconda operazione. Poi, durante il corso del pomeriggio è stato indicato un'altra situazione interessante, su stellina dollaro australiano, in questo momento, vedete, il prezzo è risalito, ma meno andando a fare, prima ha testato il 50, poi adesso, vedete, ha fatto una falsa rottura, un break-in su 61,8, da questa zona, quindi potrebbe partire la movimentazione al ribasso. Abbiamo in ottica H4, su stellina dollaro australiano, abbiamo anche la presenza di un pattern armonico, una Barry Shannon Star, vedete, eccola qua, con il punto D, che è andata a riprendersi questa zona di demand, e da qua, quindi, sempre seguendo le indicazioni nei punti di swing, abbiamo un primo impulso, una correzione che si è fermata proprio in area 50, 61,8, e da qua potrebbe partire la movimentazione al ribasso. Passiamo, infine, per quanto riguarda il gold, quindi l'altro metallo prezioso, in questo momento, piano piano, si sta movimentando al ribasso, dopo la rottura decisa di questa zona, nonché anche qua abbiamo, anche in ottica giornaliera, abbiamo una Berish Alt Shark, eccola qui, questo è il punto D, e da qua è partito questa movimentazione al ribasso, poi vediamo nelle prossime giornate sul da farsi. Bene, per stasera è tutto, grazie mille per l'attenzione, ci aggiungiamo quindi domani mattina con la seconda diretta live della settimana alle ore 8 e 30. Buonasera a tutti.